ciao a tutti oggi vi proponiamo il tiramisù all'ananas, un dolce facile e veloce che non richiede cottura e prima di proseguire con questa velocissima ricetta prendetevi qualche secondo per iscrivervi al nostro canale e per cliccare sulla campanella e attivare le notifiche prendiamo una confezione di ananas sciroppate e versiamo in un contenitore 220 millilitri di sciroppo tagliamo a cubetti 340 grammi di ananas che abbiamo sgocciolato e le portiamo in un contenitore mischiamo con una frusta a mano 500 grammi di mascarpone e 625 grammi di yogurt all'ananas insieme a tutti i nostri spettatori Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero a velo e iniziamo a comporre il dolce. Utilizziamo 100 grammi di pavesini che andiamo ad immergere nello sciroppo zuccherino. Assembliamo un primo strato di pavesini. Versiamo e livelliamo un terzo di crema. Poi di nuovo uno strato di pavesini bagnati nello sciroppo. Ancora della crema. Ancora uno strato di pavesini. Terminiamo spalmando la restante crema. E infine disponiamo uniformemente l'ananas tagliata a cubetti. Allora che ne dite, è veramente una ricetta velocissima e facilissima. Se vi è piaciuta vi chiediamo di cliccare mi piace, di iscrivervi al canale e di inserire un commento. E non dimenticatevi di cliccare sulla campanella per ricevere tutte le notifiche e le nostre novità. Grazie e arrivederci.